Tre fratelli sono comproprietari di un appartamento a seguito della successione del papà. Questa situazione si chiama comunione ereditaria, ossia ogni fratello ha una quota su quell'immobile. Ora, quella quota deve avere una veste pratica, concreta, quindi cosa succede? Occorre passare dalla comunione alla divisione ereditaria. Nella pratica cosa può venire? Se possibile, quell'appartamento può essere diviso in tre, ma ogni parte deve corrispondere alla quota di ciascun fratello. Materialmente può essere difficile, quindi, se c'è l'accordo, i tre fratelli possono vendere quell'appartamento, ma essere d'accordo sulla vendita significa, sostanzialmente, essere d'accordo anche sul prezzo di vendita, avendo sempre in mente che la vendita può essere fatta in favore di un terzo oppure in favore di uno dei coeredi, quindi un coerede acquista dagli altri due che vendono. Altrimenti, se accordo non si trova, la divisione può avvenire giudizialmente. Ma questo cosa significa? Vuol dire andare in causa. E andare in causa significa spendere soldi, energie e tempo. Domandatevi sempre, ne vale la pena? Buona giornata a tutti, ciao!